secoli. Amen. Per i nostri più cari, l'eterno riposo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, sediamoci e meditiamo qualcosa su questa magnifica e splendida festa. Cristo risorto, veramente risorto. Alleluia. Dunque, la risurrezione, la più grande gloria, il più grande miracolo che poteva darci Dio di rifarci la vita, non solo per un peso di tempo, ma per l'eternità. E non solo nello Spirito, con l'anima, ma anche col corpo. Corpo eterno, immortale, beatificato, glorificato, splendido, per chi lo ama. Con la speranza, grande speranza, che nessuno fra i nostri non sia dalla parte dei dannati. Perché c'è anche questo pericolo, che quando risorgeremo tutti alla risurrezione generale, qualcuno si trovi dalla parte sinistra del trono di Dio, dove c'è la condanna eterna, dove la risurrezione, il corpo risorto è un corpo spaventoso, che solamente questo corpo spaventoso è capace di darti un'eternità di dolore, di sofferenza, a parte tutto il resto. Perciò è questo che facciamo con la preghiera, con la presenza ammessa, con la comunione, con i sacramenti, col battesimo soprattutto. E con una vita sempre più virtuosa, più perfetta, più vicina a Dio, più unita con Lui, proprio per evitare questo finale spaventoso, non solo per noi, ma per i nostri cari. Perché con le nostre, con le vostre preghiere, con le nostre, con le vostre piccole o grandi sofferenze, offerte con amore, noi siamo capaci di, a parte di salvare noi stessi e i nostri più cari, ma anche salvare gente lontana, gente che non crede, che non ama, gente rinnegata, gente cattiva, gente criminale, eccetera, eccetera. Questa è una certezza assoluta per cui in giorno di Pasqua, ancora una volta, dobbiamo imparare a non lamentarci per le piccole e le grandi sofferenze che abbiamo nella nostra vita. O il fatto di avere una persona malata in casa, di tenerla, di curarla, è difficile, è pesante, ma è meritorio. Che miracolo! Che amore di Dio, che amore deve aver avuto Dio per queste persone che hanno queste situazioni spaventose qualche volta in casa, ma che merito, che paradiso senza prodatorio che avranno, se non si lamentano, se la offrono con amore, questa sofferenza. Però io adesso vi vorrei, proprio il giorno di Pasqua, quando si parla di risurrezione, di gloria, di splendore, di eternità, di certezza, del fatto che solo Gesù Cristo, il vero Dio, ha potuto dare al mondo una cosa simile, cioè la risurrezione, il rifare la vita, il ricostruire tutto da capo in un modo meraviglioso. Ma di questo siamo consci e consapevoli, siamo a conoscenza solo noi, i cristiani. Questa è una grazia in più, un privilegio immeritato, perché gli altri non lo sono, i musulmani, i ebrei, i pagani, gli atei, non lo conoscono questo mistero, non lo credono, che è una brutta cosa questa, non sapere cosa ti aspetta, mentre noi lo sappiamo. Bene, proprio in questa atmosfera di splendore, di vittoria e di felicità, mi vorrei fermare con voi su questa seconda lettura che la Chiesa propone dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, una frase che si deve far pensare in una maniera molto, molto strana, ecco, originale, se non volete dire profonda, ed è perché è proprio, perché è proclamata proprio il giorno di oggi. Ecco, ricordiamola, dice, fratelli, se siete risorti con Gesù Cristo, cercate le cose di lassù, è chiaro, fin qui tutto a posto, dove è Cristo seduto alla destra di Dio, d'accordo? Poi dice, rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Eh, ancora una volta, fin qui, tutto perfetto, normale, l'abbiamo sempre sentita questa cosa, ed è una buona cosa, dobbiamo farla. Ma adesso arriva un'informazione molto strana, voi infatti siete morti. Interessante. Poi ti spiega come e dice, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Va bene, dove è nascosta è meno importante. È importante che siamo morti. Si capisce, chi non vuole approfondire questo dirà, va bene, ma è un discorso tutto simbolico. D'accordo? Ancora una volta, tutte le parole della Sacra Bibbia sono anche simboliche, ma prima di essere simboliche, tutte, ma assolutamente tutte le parole della Sacra Bibbia hanno una realtà fisica reale, immediata. Dopodiché spieghi anche quell'altra parte simbolica, come ti pare. Dunque siamo morti. Che vuol dire? È esaltante poi se ci pensi. Ma allora se sono morto? Se voi siete morti? Noi adesso che facciamo? Come cioè siamo morti? Ecco, ciò che stiamo vivendo adesso è finito miliardi e miliardi e miliardi di anni fa. Noi viviamo adesso in un'inerzia. Non siamo usciti da questa inerzia. Noi ancora crediamo di essere, miliardi e miliardi di anni fa, quando c'era una volta un pianeta chiamato Terra, in una città chiamata, com'è? Città vecchia, vicino alla grande città. Ma che nome aveva mai? E' vero che a Roma c'era uno vestito di bianco? Come sia? Cosa faceva? Ah, dice che ha dato le temi. Ah no, un altro. Ma probabilmente si chiamava Papa. Ma questo è un nome proprio? Ah, forse ha mostrato un mestiere? Boh, chi lo sa? Sono miliardi e miliardi di anni fa. Adesso che facciamo? Ma adesso? Non lo so. Vedremo. Insomma, questa è la realtà in cui siamo. Tutto il resto potete aggiungerlo voi. perché se non è questo, com'è? Dice, voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Ecco il secondo altro. Nel momento in cui ti sei accorto che sei morto, che stai vivendo una inerzia, che questa terra con tutto il suo universo, con tutta la sua santa città e con il suo Papa sono finiti miliardi e miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di secoli fa? L'unica cosa che devi fare seriamente, a parte che puoi continuare, è vivere nell'inerzia. Cioè adesso, fra poco dirò, la Santa Messa è finita. Andiamo in pace. Alleluia, alleluia. E allora tornate a casa, fatevi il cena, la cena normale. Andate al cinema, andate a votare, va bene, andate a vedere il Papa. Ma tutto ciò che farete in questo senso è solo un'inerzia. L'hai vissuta miliardi e miliardi di anni fa, ti compiaci in questa situazione, ma non è condannabile, d'accordo? Solamente che ti illudi. È così vero che gli indiani, pur non essendo cristiani, considerano tutto ciò che ci circonda un'illusione. e la chiamano perfino con una bella parola, maia. Illusione, perché non sanno perché è un'illusione. Noi lo sappiamo, da qui. Loro lo sanno perché si vive in un'illusione. Allora, tutto lo sforzo di un indiano brahmanico o induista è quello di uscire fuori da quest'inerzia, ma siccome non sa dove andare, perché non ha Gesù Cristo, non conosce la risurrezione, non conosce il paradiso che è stato creato, il paradiso è stato creato in una data precisissima. il venerdì santo dell'anno 33 a fine marzo o i primi di aprile di quell'anno alle ore 3 del pomeriggio e 2 minuti. Se volete 3 e 3 minuti. In quel momento è stato creato il paradiso di cui parliamo sempre. Prima non c'era. paradiso dove una volta creato Gesù è salito con chi? Accompagnato, guarda un po', dal ladro che è stato crucifisso alla sua destra. Poi è sceso negli inferi. Questa è stata la sua attività, come sappiamo, fra il momento della morte fisica del venerdì santo alle ore 15, ecco perché dico 15, due minuti, alle 15 è morto. Un secondo dopo è sceso negli inferi. Nel scendere negli inferi creava il paradiso perché svuotava questi inferi da tutti i nostri antenati, da Adamo e Eva a Abramo a Mosè a tutti i profeti, agli antichi saggi, anche delle altre culture, Socrate e Platone, l'abbiamo detto, Cicerone, non so io, il Buddha o laozze, Confucio, tutti sono stati salvati in quel momento e poi tutti questi, insieme al ladro sulla croce, a San Giovanni Battista, che pure lui stava negli inferi, sono saliti in paradiso che lui ha creato qualche minuto prima e da allora stanno lì. Ma non stanno per sempre perché questo paradiso spirituale è provvisorio. È provvisorio come anche l'inferno spirituale in cui spero che non sono caduti molti ma comunque sarà caduto qualcuno. Comunque anche esso è provvisorio perché deve arrivare, come abbiamo saputo, come sappiamo sempre da Gesù, la risurrezione finale, con la risurrezione finale le anime si uniscono ai corpi, il paradiso spirituale si unisce al paradiso terrestre che sarà rifatto e allora non la Terra, tutto l'universo, anche le più sconosciute terre, galassie, saranno la nostra proprietà privata. Questo è che ci aspetta. Ma siccome questo l'indiano non lo sa, queste sono informazioni puramente di Gesù Cristo, cioè cristiane, lui sa però che viviamo nell'inerzia della vita, che tutto ciò che io tocco, tutto ciò che mangio, tutto ciò che vedo, non è vero, che è un'illusione. E questo è vero. E allora tenta di uscire fuori e dove deve finire nel nirvana, come sappiamo. Nirvana è uno stato di non essere, perché lui non arriva con la testa altrove, non sa che esiste il paradiso, non sa che c'è Gesù Cristo, non sa che questo nirvana esiste davvero, ma è solamente un passaggio fra questo mondo di inerzia in cui viviamo e quello reale che è il mondo di Gesù. E lui si ferma nel nirvana. Nel momento in cui un indiano legge il Vangelo, c'è qualche prete che glielo spiega, e qui poi diceva la grazia della fede, lui capisce ancora meglio di noi, perché è già preparato, capite, a questa conoscenza, allora, ecco dove dovevamo finire. Che io, con la mia legione cristiana, non nego il fatto che noi viviamo nel nulla, nell'inerzia. Ma cosa strana? l'inviano, anche se non sa il secondo atto, però è convinto e consapevole del primo. Mentre il cristiano cattolico, forse ne pure voi, tutti. non siete così convinti che ciò che viviamo è un'inerzia di una cosa, ma è da molto tempo finita. Vero? Vedi come siamo strani, tutti noi? Come siamo strani. dunque il cattolico che sa la verità, però questa frase non l'ha mai letta o la legge dice, ma no, è tutto un simbolo, voi siete morti, ma ho fatto il mio piacere. Ho predicato questa cosa, mi ricordo, in una chiesa dove ero adorato dalla popolazione, non qui, però anche qui c'è stato, ma vi dico subito anche dove, Romania è una città chiamata Lugos, che veniva la gente anche da lontano per sentirmi parlare, mi adoravano, ero una persona amata, tutta la città mi salutava, ero nella mia gloria, insomma. Un giorno, un nottipasqua, non proprio di domenica, domani, cioè lunedì, mi sono messo a predicare in questa cosa, esattamente questa. Da quel momento si sono alzati, non sono più venuti in chiesa, hanno dato così una parola in tutta la città, che io sono un uomo pazzo, che dico solo stupidaggini, che la messa non si deve più venire. No, non è possibile che dica una cosa, ma perché il vescovo ne lo permette. Dunque, sette anni sono stato adorato, mi è bastata, questa, Fredi, questa. Forse l'ho detta anche, non lo so, certo non sono più andato lì. Mi diverte la situazione, però il fatto è che sono rimasti scandalizzati, per me ancora, io sono scandalizzato, perché loro sono rimasti scandalizzati di una cosa che un indiano, che non è cristiano, lo capisce subito, l'ha sempre capito. E poi tu non ti perdi nulla, perché io ti insegno cosa fare veramente. Devi uscire fuori da questa inerzia, ma non devi andare nel mirvana, cioè come l'indiano, nel non essere. Ti insegna, dice, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio, dunque ti dedichi a questa tua vita nascosta con Cristo in Dio, ti dedichi a Gesù Cristo. Relativizzi tutta la tua realtà di qui, che sai che già è un'inerzia, dunque arrivi esattamente a ciò che il cristianesimo è sempre arrivato, cioè disprezza un po' la realtà della terra, i dolori, i piaceri, sono relativi qui, perché siamo di passaggio, non solo che siamo di passaggio, ma è già finita. E la mia preoccupazione è di conoscere Gesù Cristo, di conoscere il cielo, di conoscere i santi, di conoscere la Maria Santissima, che vivono già nella realtà della divinità, già sono risorti, per questo si permettono anche il lusso di venire ogni tanto, di mandare messaggi sulla terra, di far piangere un'icona, una statua, di fare un miracolo all'Urd, di aiutare un medico a salvare la vita di uno, di un avvocato, insomma. Loro già vivono la vita piena e anche tu fai così, la stessa cosa, relativizzi, perciò anche la tua vita sarà più facile, così tu quando hai, ripeto e concludo, quando hai una sofferenza in famiglia, sì, è grande, è grande, però la offri perché sai che è già passata, occuparti di tua madre molto malata o di tua figlia o di tuo figlio, è una cosa che hai fatto miliardi di anni fa, non lamentarti, offrila con gioia perché è già questo, cioè vedendola si chiama questo modo di vedere le cose come se fossero passate, ma in realtà sono passate, si chiama nella teologia sub specie eternitatis, cioè ti sali sopra e vedi, vedi dall'alto tutto quanto come una cosa passata, e allora è più facile, ma è giusto che sia così, è facile offrire, accettare tutto, perché sai non solamente che è meritorio che avrai il paradiso che sarai risorto, ma che vivi in un'inerzia se sei una persona seria, se hai la grazia di capire questo, di avere cioè la virtù chiamata lucidità, allora tu esci fuori da quest'inerzia e vivi spensierato, ripeto, relativizi le sofferenze, i dolori, ma anche le gioie perché sei già risolto e la tua vita è nascosta con Gesù Cristo in Dio e nascosta davanti ai tuoi occhi e davanti agli altri ma comunque non molto nascosta perché col sacramento tu puoi avere delle visioni, le visioni quando hanno delle apparizioni, quando hanno dei miracoli, perché? Perché tutte queste persone vivono nel futuro, non vivono nel passato e tantomeno nel presente e poi quando Gesù Cristo nostra vita sarà manifestata l'ha manifestata e dice ancora, ancora, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. Ecco, l'unica cosa futura è questa, che finisca questa inerzia e tu risorto dai morti sarai vittorioso nei secoli dei secoli. Amo. Grazie per la vostra attenzione e spero che non mi farete la figura dei fedeli di Lukosje. Cristo risorto. Grazie a tutti. Prechiera finale.